Ogni tanto mi ricordo di concedermi il lusso di andare a farmi le unghie. Dico, mi ricordo perché non sono una persona che solitamente si trucca, si fa le cose, anche farmi mettere lo smalto sulle unghie per me è un lusso, perché veramente non rientra nella mia concezione delle cose. Poi quando lo faccio mi piace un sacco, dico, ah, dovrei farlo più spesso, però poi letteralmente me le dimentico. Ecco, ieri l'ho fatto, avevo circa 40 minuti di tempo da usare, libero, e l'ho fatto. E come sempre quando faccio queste cose, poi è un'esperienza per me molto interessante dal punto di vista dell'ascolto. Allora immaginate, entro in questo posto, un posto asiatico, perché costa meno naturalmente, mi siedo e aspetto il mio turno. Allora, le due ragazze che fanno le unghie sono due ragazze cinesi, parlano tra di loro in cinese, fitto fitto, e poi un'altra cliente a fianco a me è una ragazza molto giovane, filippina. Allora ci sono questi scambi. Evidentemente la ragazza filippina conosce le due ragazze cinesi, perché si chiamano per nome, e poi si chiedono come è stato tuo padre, come è stato tua madre, ed è qua che inizia la parte interessante. Allora, la ragazza cinese chiede alla cliente filippina, come è stato tuo padre? E la ragazza dice, non lo so, è più di un anno che non ci sentiamo. E lì cominciano a parlare delle loro dinamiche familiari. Pare che tutti e due abbiano questa cosa qua, che per anni non si parlano tra sorelle, fratelli, madre, figlia. Poi ho scoperto che i genitori della ragazza filippina sono divorziati, e che mentre prima, quando la mamma stava insieme al padre, egli era sempre arrabbiata, ha detto letteralmente, mia madre era una strega, era sempre arrabbiata, sempre col muso. Adesso da quando sta da sola, non è sempre sorridente. e poi ho scoperto che la ragazza cinese non esce mai col marito, col compagno, non so se siano sposati, e non vanno mai a cena fuori, che è una cosa mai sentita, che si vada a cena al ristorante col proprio compagno, col proprio marito, si sta a casa. E la ragazza filippina era abbastanza scioccata, quando dice, ma scusa, allora tuo marito non lo chiami per chiedere come sta? E la ragazza cinese dice, no io lo so come sta, sta bene, no, ci vediamo a casa. E ma non andate, non vi fate le cocole. No, no, noi queste cose non le facciamo, nella nostra cultura queste cose non si fanno. Tu stai bene, lo vedo, e non c'è bisogno che te lo chieda. Io ero lì che mi sono dovuta controllare per non tirare fuori il registratore, però era una cosa spassosissima. Vabbè, mi piace ascoltare quando la gente parla di cose che sono completamente strane al mio mondo.